Perché siamo qui oggi? Il senso di questo incontro di oggi? Questa è la seconda puntata di un viaggio all'interno di una innovazione tecnologica per l'ammodernamento delle reti. Il primo l'abbiamo fatto in settembre del 2021 e a quel tempo si parlava solo di disaggregazione. Oggi parliamo di cloudificazione, cioè di come gestire l'enorme quantità di dati e anche la funzionalità delle reti non più con apparecchiature customizzate, hardware dedicato, ma attraverso i grandi container, i grandi server e quindi c'è un cambio di paradigma da soluzioni verticali a soluzioni in cui più attori entrano per un ammodernamento della rete e per dare la possibilità di scalare la complicità della rete in un modo molto più efficiente. sia dal punto di vista prestazionale, sia dal punto di vista anche dell'energia, di tutto ciò che va dietro a supporto della rete e della qualità dei dati. In che modo JMA aiuta gli operatori in questo passaggio? Noi siamo una realtà che comparata ai grandi giganti è piccola, però abbiamo avuto la fortuna di indovinare uno stack, un software che abbraccia il 2, il 4, il 5G e dei device che permettono l'ammodernamento della rete coordinandoci con i nuovi player, che sia Amazon, che sia VMware, che sia VMware e quindi che siano tutti... i nostri prodotti hanno la possibilità nativamente di cooperare e coordinarsi con le più moderne tecnologie. Com'è il mercato? È recettivo? Il mercato è sempre in bilico, fra il mondo conosciuto e il mondo che si vorrebbe. Quindi in questo forse abbiamo bisogno di più coraggio da parte degli operatori e sicuramente di molto più attenzione da parte delle istituzioni, perché non si diventa grandi senza avere anche l'attenzione istituzionale. Un appello quindi alle istituzioni di seguire il settore e cercare di promuoverlo? Sicuramente il mio invito a guardare con più attenzione, soprattutto per i governanti italiani, alle aziende che sviluppano qua delle cose. Non vuol dire dare dei vantaggi, però vuol dire guardare meglio che cosa... Ci sono delle aziende in Italia e in Europa straordinarie che fanno sempre tutto da soli e questo è un po' faticoso. Un po' più di attenzione all'italianità anche, delle nostre tecnologie. Attenzione a quello che le aziende italiane possono esprimere. Nessuno chiede dei privilegi. Un po' più di attenzione sì, nel fare sistema sicuramente. Altri paesi lo fanno, a partire dalla Francia, a partire dall'Inghilterra, per non parlare dell'America o dei paesi dell'est asiatico. Noi no, mai. È dura così. Noi no, mai. È dura così.